Olli è una femmina di Amsaf abbandonata, finita in un canile e poi adottata da Antoni, una persona con diabete. Presto diventerà un'importante risorsa per il suo padrone. Sì, perché Olli si sta addestrando per diventare un cane d'allerta diabete, un dottor dog. Dottor dog è il nome del progetto ideato dall'associazione Diabaino Vip Vip dello Stretto che ha come fine la creazione di un centro di addestramento per cani d'allerta, ovvero formare amici a quattro zampe capaci di percepire i pericolosi sbalzi di glicemia nelle persone con diabete, che se non compensati in tempo possono causare danni a occhi, reni, cervello e perfino causare la morte. Per chi soffre di diabete, avere accanto un dottor dog sarebbe un importantissimo aiuto a casa, come a scuola o al lavoro. Per questo vogliamo realizzare il nostro ambizioso progetto, ma per farlo abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Bastano pochi euro. Un piccolo gesto può far sorgere i mille sorrisi. Aiutaci anche tu ad aiutare. Grazie. 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 Grazie.